Nei pressi dell'ingresso dello spazio espositivo troverete una scultura, un cane, legato con il guinzaglio ad un gancetto affisso a un muro. È una sorta di autoritratto, una sosta durante una passeggiata iniziata altrove e che forse continuerà lungo la sua strada. Un cane in attesa del proprio padrone, una questione di fiducia. Grazie a tutti.